Buonasera dal Teatro Civico di Tortona, dove si è appena conclusa la cerimonia del premio internazionale Fausto Coppi Città di Tortona, che quest'anno è stato insegnato anche a Davide Cassani. Non so per quale motivo, ma con Bugno, Chiappuccia e Nibali hanno dato il premio Fausto Coppi anche a me. Beh, questo è l'anno del tour, c'è qualcosa sopra, perché chi è che ha portato il tour in Italia, si vocifera? Io ho avuto un'idea, poi dopo, sai, ho fatto parte di quella squadra che ha portato il tour in Italia. In Italia e passerà da Tortona il primo luglio, avremo anche la tappa, un gran premio della montagna a Tortona. A Cod de Tortona. A Cod de Tortona e quindi doppio grazie a Davide Cassani. Ciao.